Perché noi siamo sempre presi da fare un miliardo di cose senza mai pensare come i muri, andare avanti, avanti, avanti Non bella realtà Oggi siamo aspettati da questi ragazzi qua, dove si vede, si, si vede Hanno tanta passione e tanta professionalità, riescono ad offrire tanti servizi e dopo magari metteremo anche il link del loro sito sotto il video All'inizio sono Ok, bene Oh, questo è un lucio cambia, di sì, è un lucio cambia, di sì, è un lucio cambia Sì All I need are some better days All I want and I pray I believe in the better days